È frutto di una sinergia corale in cui ciascuno ha fatto la propria parte per stilare il ricco cartellone di eventi, oltre 80, che caratterizzeranno i prossimi tre mesi a Piedimonte San Germano. L'obiettivo era creare una serie di appuntamenti adatti a ciascun cittadino del Comune Ciociaro, dai più piccoli e più grandi, affinché davvero ciascuno possa vivere la sua estate. L'Aula Consiliare del Comune ha ospitato la presentazione del cartellone estivo alla presenza, tra gli altri, dei numerosi comitati e associazioni, attivi protagonisti nel pianificare prima e nell'organizzare poi l'estate 2024 a Piedimonte San Germano. Sono 30 le manifestazioni che spalmate dal mese di giugno fino al mese di settembre e che vedono più di 80 giornate di attività più variegate, da manifestazioni sportive, culturali, cabaret, teatro, orchestre, fino ad arrivare ovviamente alle feste religiose le più tradizionali. Quindi oggi siamo qui a presentare questo cartellone insieme all'assessorato alla cultura e all'assessorato allo sport, ma soprattutto insieme ai tanti presidenti delle associazioni, dei comitati civici, dei comitati religiosi, fino ad arrivare ovviamente a vivere ogni giorno la nostra città attraverso delle belle manifestazioni organizzate dal Comune in collaborazione con la Prologo e con i tanti comitati. Eventi estivi che iniziano dal mese di giugno e termineranno alla fine di settembre con una novità quest'anno in collaborazione con l'ACI dove ripercorreremo sul nostro territorio una mostra di auto d'epoca che interesserà il nostro borgo storico. La Prologo come ogni anno partecipa a queste manifestazioni dando una mano ai vari comitati che ci sono sul territorio e cerca di essere d'aiuto e oltretutto di sprono rendendo viva questa nostra città. Quest'anno abbiamo avuto il primo giugno la festa dello sport, una manifestazione che ormai cresce anno dopo anno. Abbiamo inserito all'interno di questi eventi anche la passeggiata ecologica lungo il cammino di San Benedetto. Nella piazzale delle cinque città è stato installato un maxischermo per le partite della nostra nazionale del camminato europeo e a breve cominceranno anche i due tornei, uno nella parte alta della città dedicato quindi ai calcetti per i più piccoli e in piazza municipio lo maestorico torneo di beachvolley Mario Marrano.